Dopo aver messo a segno il colpo, avevano addirittura brindato versandosi del vino alle calici, poi avevano acceso il fuoco, si erano fatti una bella doccia ed infine si erano addormentati proprio nei letti della casa che avevano appena razziato. A sorprendere i ladri nella villetta, nelle campagne di San Polo, gli stessi proprietari una volta tornati a casa. Adesso due uomini, un 23enne ed un 34enne, cittadini albanesi, entrambi clandestini, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di una lunga serie di furti sia in auto che in abitazione. L'operazione della Polizia di Stato era scattata a seguito della segnalazione degli stessi proprietari, una coppia di pensionati aretini che all'interno della loro casa avevano trovato evidenti segni della presenza dei ladri. Nonostante lo shock, avevano chiamato immediatamente il numero di emergenza 113. Sul posto era così giunta una pattuglia della squadra volanti che si era messa all'inseguimento dei malviventi, nel frattempo fuggiti attraverso il bosco. I ladri sono stati infine fermati in città, in via Buonconte da Montefeltro, dove la volante e la mobile hanno acciuffato due dei tre banditi, che alla fine, per scappare, avevano chiamato un taxi ma erano stati intercettati. Uno di loro è ancora in fuga. Fiutando il rischio, ha infatti chiesto al tassista una sosta e si è dileguato. Per gli altri due, invece, dopo la convalida dell'arresto, è stata disposta una misura cautelare, arresti domiciliari per uno, divieto di dimora in provincia di Arezzo per l'altro. È stata infine recuperata la refurtiva di altri furti e una macchina, una 147, anch'essa rubata, parcheggiata fuori dalla villetta, che tre avevano visitato.